E' stato un weekend importante a livello giovanile per quanto riguarda la pallavolo l'Academy School Volley con l'Under 18 ha superato con un netto 3-0 la CS Nettuno Montella vincendo così il campionato Under 18 e il Pignasagno mentre domenica ci sarà la finale tra le due compagini Under 16 col direttore tecnico Domenica Modeo che si aspetta di bissare lo stesso risultato Applausi anche per l'Inter serinese, uno straordinario trionfo si è consumato nell'attento struttura Vassallo di Serino dove i giovani atleti dell'ICP hanno dimostrato tutto il loro valore vincendo la finalissima per 3-0 contro Telese in una partita carica di emozioni e adrenalina i ragazzi hanno dato il meglio di sé mostrando non solo abilità tecniche e tattiche ma anche una grande determinazione contro un avversario che ha lottato fino all'ultimo secondo il supporto dei tifosi in questo match è stato fondamentale l'entusiasmo e l'orgoglio per questa vittoria si sono diffusi nell'intera comunità dimostrando che quando ci si impegna con passione e dedizione si possono ottenere risultati veramente importanti